Colpi non da poco, la prima fu la tua intervista a Berlusconi, smentita, strasmentita, mi permesi di dire quel giorno in diretta e conoscendoti, insomma, davo abbastanza per scontata che la conversazione c'era stata e poi anche quella famosa intervista di Giorgetti che ha aperto un'altra breccia, però veniamo alla breccia di Trieste perché mi interessa molto il vostro parere su quello. Io sono rimasta un po' colpita, devo dire, quando ho letto questa circolare, sarà che qua ci siamo tutti vaccinati molto ordinatamente, ma insomma l'idea è che il Ministero dell'Interno dica alle imprese portuali, naturalmente adducendo ragioni più che valide, cioè che il porto è un'attività strategica che nella filiera, diciamo, la distribuzione, se tu blocchi un pezzo o crei un disastro per tutto il paese, fatto sta che dicono fatevi i tamponi gratis fino a dicembre, chiudiamo un occhio, però se chiudiamo un occhio per i portuali tutti gli altri si sentono dei fessi, francamente. Giannini e Minzolini. Anche io ti devo dire che quando ieri ho sentito e ho letto questa circolare sono rimasto piuttosto colpito e basito, persino scandalizzato se vuoi, perché noi fin dall'inizio abbiamo sposato la linea dura e pura, chiamiamola così, cioè giusto estendere l'utilizzo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro come step intermedio rispetto a invece un obbligo vaccinale che secondo me andava deciso subito, perché questo avrebbe ancorché rappresentando una misura estrema, però eliminato tutte le possibilità di discriminazione e o possiamo chiamarla anche favoritismo, bene, però allora se decidi di seguire la linea dura e pura, quindi Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, tutti i luoghi di lavoro con pari regole che valgono in ciascuno dei luoghi di lavoro, poi dopo se a distanza di tre giorni dal D-Day nel quale questo obbligo deve scattare cominci con le deroghe, beh, allora cade tutto, quindi da questo punto di vista io il governo non lo capisco, è una scelta che non capisco, è una scelta pericolosa che scorrata, adesso in poi, non c'è di dire, allora l'hai fatto per Trieste, lo fai all'Ilva di Taranto, allora lo fai anche per me. No, ma vuoi notare che sono tre giorni dal D-Day, a me mi ha colpito pure questo, che la circolare comincia facendo riferimento al provvedimento del 21 settembre, cioè dal 21 settembre ad oggi noi ci ritroviamo, che oggi diciamo ai portuali, vabbè, voi siete una categoria a parte, ma di che stiamo parlando? Infatti, ripeto, è un precedente molto pericoloso, in tre giorni, secondo me adesso, ciascuna delle categorie o delle singole imprese o dei singoli grandi gruppi industriali, anche a dispetto delle circolari analoghe che ha varato nei giorni scorsi Confindustria, possono sentirsi legittimati a dire, io non la gestisco questa situazione, perché effettivamente 4 milioni di lavoratori, c'è chi dice 3, chi dice 4, chi dice 5, non hanno il Green Pass, non sono vaccinati, beh, allora mi dai la deroga anche a me. A quel punto io non so, Draghi, che cosa posso rispondere, io non saprei cosa rispondere, sinceramente. Tant'è vero che io nell'apertura, lo dico anche Augusto che ci ha raggiunti, dicevo, beh, forse è il momento dell'obbligo vaccinale, perché se l'80% degli...